Siamo in compagnia di Massimiliano Colombo quando mancano ormai pochi minuti al via di gara 1 per quanto riguarda il Predators Challenge qui a Varano dei Melegari. Allora Max una buona qualifica quali sono le tue aspettative per la gara? Aspettative per la gara spero buone, il passo non era male, non mi è uscito il giro secco perché ho fatto un po' di cavolate qua e là però direi che il passo secondo me è buono, poi siamo tutti vicini quindi sarà una bella gara, divertente. Qui sul circuito di Varano si reduce da un bel weekend nel precedente appuntamento conclusosi purtroppo con una carambola che ti ha visto protagonista e coinvolta insieme ad altri piloti ci vuoi raccontare un po' cosa è successo anche se poi immagino vi siate chiariti. Sì sì ci siamo chiariti, fine gara al momento eravamo un po' tutti caldi poi ci siamo chiariti subito dopo praticamente io ero un po' in crisi con le gomme, ero terzo, mi sono messo un po' all'interno dietro c'era un po' di bagarre e De Toffol ha perso la macchina in staccata e mi ha centrato in pieno cose che succedono, era meglio se non succedeva ovviamente anche perché ha buttato via la gara io, lui e Spadini e quindi vabbè succede comunque. Senti tu hai una lunga esperienza nel mondo delle corse però è la tua prima stagione in questo campionato ci vuoi raccontare un po' le tue sensazioni nell'approdare nel mondo Predators? Guarda, corro ormai da tantissimo tempo, ho provato un po' di tutto, l'anno scorso ho fatto quei test promo che fa Corrado, sono andato a farli, sono sceso che avevo il sorriso a 32 denti tornando a casa parlavo con il mio sponsor e ho detto buon la compro e questo è il risultato e mi sto divertendo tantissimo. E allora in bocca al lupo naturalmente a Messimiliano Colombo e ci vediamo in pista per il Predators Challenge. Grazie